Prove di alleanza in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo in casa PD, anche in Calabria. Si susseguono in queste ore nella segreteria regionale del partito gli incontri tra Ernesto Magorno, plenipotenziato dei Democrat calabresi, e diversi esponenti di partiti e movimenti. Come Luigi Incarnato, coordinatore regionale del Partito Socialista, giunto a capo di una delegazione con la quale, assicurano gli interessati, si è raggiunta una rinnovata e leale saldatura tra forze riformiste e si è ribadita l'urgenza e la necessità di organizzare al meglio la campagna elettorale, a partire dalla selezione delle candidature e dalla formazione delle liste, candidati riconoscibili e radicati sui territori che rispondono ad una domanda di qualità dell'elettorato calabrese e questo è il profilo sul quale i due partiti hanno trovato la convergenza. Aperture elettorali anche nei confronti della costola di alternativa popolare che si è ritrovata attorno al ministro della Salute Beatrice Lorenzin dopo lo strappo del sottosegretario Tonino Gentile. Magorno e Incarnato hanno infatti incontrato anche il senatore Nico d'Ascola, un vertice nel quale, assicurano i partecipanti, è stata sottolineata l'importanza di un soggetto moderato nell'alleanza che si andrà a creare a testimonianza di uno schieramento plurale che possa dare voce ai bisogni e alle aspettative dei calabresi. Dalla Mezzia Terme per la CNews24